cazzo di buddha guarda che roba mincia no 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 man bisogna fare qua bisogna fare qualcosa qua c'è da caccia al record guarda guarda che roba ragazzi cos'è sta bestia quanto pensava una bestia disumana cos'è è un aspio mi sa che dobbiamo farlo morire di vecchiaia adesso ragazzi quanto peserà quella bestia tantissimo almeno 15 kg sarà 3 kg di più come cazzo lo stacco si è arreso non ti preoccupare non sono pesci delicati metterlo sull'erba adesso mi taglio faccio la piantata è tutta dura io sto documentando questo è qualche un po' più un po' più un po' più un po' più ora questo è una bestia Fagli delle foto Sto facendo una videata incredibile Ah ok è tutto un video Si si è tutto un video incredibile Aspetta che si Se riesci a sciacquarla sarebbe il top del top